Ciao canale, non so, ciao! Ciao a tutti, benvenuti a questo mio nuovo video. Se vi stavate chiedendo che fine avessi fatto, la risposta è in questo video, perché dal 13 al 19 giugno sono andata una settimana a Milano a fare il corso del Mass Factory, che è un corso in collaborazione tra Chorille e il Mass di Milano, che serviva in un certo senso per migliorare i canali YouTube. In questo corso noi avevamo lezioni dalle 10 di mattina alle 19 di sera e la mattina facevamo le lezioni un pochino più teoriche con Elio, Porta e Daniele Dossen-Mattez. Mentre al pomeriggio le lezioni un pochino più pratiche, quindi abbiamo fatto recitazione, che mi è piaciuta tantissimo, e infatti io prima facevo un corso di teatro e ora mi è tipo troppo rivenuta voglia di iscrivermi di nuovo al teatro. E penso che due parole si manno. Poi abbiamo fatto scrittura creativa e infine le basi della fotografia, delle luci, ora non mi ricordo come mi chiamavo a scoprire quella materia, con cani secco. E' una persona che si vede un sacco, che ama quello che fa. Si vedeva proprio che era appassionato. Poi sono venuti a parlare di alcuni YouTuber, come Yakameth, Michele Bravi. Io lo sai, non lo puoi firmare. Io lo adoro. È proprio... Infatti stavo tipo... Oddio mio! È venuta a parlare di come da X Factor, che era stato catapultato al successo, poi è passato a fare il primo CD, poi dell'apertura del suo canale YouTube, e mi sono sentita molto colta musicalmente, perché da fan di Fanziano Perro sapevo benissimo che era Michele Canova e Fabrizio Zernini, e nessun altro lo sapeva. Poi sono venuti Muriel, Lea e Alice, e vi lascio pure qua i video che in teoria abbiamo fatto per le... avevo fatto salutare le mie cugine, perché le sorelle erano fanno... Aspetta, scusa! Ah, ciao! No, volevo salutare cugine, sorelle, amiche, in generale di Ilaria, che mi ha detto saluta la mia famiglia, la mia amica ricca, quindi ciao a tutte, vi voglio tanto bene, ci vediamo la prossima volta! Salutare, ti vuole le mie cugine, la mia stanza piena? Ah, ok! Perché ti seguono bene loro! Ah, tutta la famiglia? Sì, le cugine, cioè, tipo i miei, no, ah, vabbè! Ciao cugine, ciao a tutte, non so come, sono tante cugine, sì, troppe, quindi è inutile che ti dica i nomi! Grazie per seguire il mio canale! E poi, non a parlare, ma comunque, in giro possiamo dire, si sono viste Brian, Felipe, puoi iscrivere anche al mio? Fermo, fermo! No, un carino! Dimmi dimmi! Idli Dancer, staccato! Quindi con Y, prossimo sono io, la camicia per me! Se qualcuno ti ha rollo la foto, poi me la crediamo, cioè, se lo facciamo il cuore! Quindi balli? Sì! Anche mia sorella vorrebbe fare un canale dove balla! Davvero? Magari ci speriamo un po'! Questa qua c'è il cuore che ho fatto di fare un canale! Bene! Tra l'altro, quando dovevo fare la foto con Felipe, mi era finita la memoria del cellulare, e quindi non ho potuto fare la foto! Sì! Ciao! Come si chiama il tuo canale? Illy Dancer! Illy Dancer! Ciao! Iscrivetevi a tutti a questo canale! Mi raccomando, se non trovate, io vi guardo! Io vi guardo, quindi, scacciate e iscrivetevi! Grazie! Ovviamente, non ero sola, ovviamente, a fare questo corso, e ho conosciuto un sacco di persone simpaticissime, di cui vi lascio i canali qua sotto in descrizione, e mi raccomando, andatevi a vedere, perché meritano un sacco! venivamo un po' da tutte le parti d'Italia, avendo comunque una passione in comune, ci siamo trovati molto bene tutti insieme, e in tutto questo, ho visto anche Milano! Siamo in Duomo con Laura, che non vedevo da un sacco di tempo! Io l'ho mancata un sacco, ed è la prima volta che vedo il Duomo, sono molto emozionata! E ora andremo anche a fare la cosa del Giro delle Palle del Toro, perché pare che porti fortuna! Così dicono... Sì, io ho due! Quindi forse è il caso! Con questo voglio come minimo 28! Ciao Ila! Ciao! Ti piaciuta il Duomo? Sì, molto molto bello! Adesso devi ritornare! Ovvio! Ormai ho capito... La strada! Esatto! Adesso è Roma-Milano! Esatto! Collega! Ci collega! E quindi ritorniamo molto presto! Dai, sì, almeno rivediamo il Duomo insieme! Esatto! Magari rivedo più qualcos'altro! Duuuuuh! Duuuuuh! Tiriamo! Eccolo! Ciao, Duomo! Alla prossima! Ciao! Detto questo video è finito! Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su e iscrivetevi al mio canale! Potete seguirmi su tutti gli altri miei social e da oggi potete seguirmi anche su Snapchat, perché prima ce l'avevo privato, sono Illy Dancer pure su Snapchat, quindi non vi potete sbagliare! E noi ci vediamo al prossimo video! Un bacione! Un saluto al canale Illy Dancer e sicuramente mi guarderò un po' i suoi video perché... Anzi, magari ti faccio collaborare con il suo rato! Sei di Milano? Io sono di Milano! Vabbè, vengo! Non c'è problema! No, non c'è problema! Non c'è problema!